benvenuti amici di mobile o s quest'oggi stiamo provando il motorola moto e come realizza i video lo smartphone di motorola proviamo quindi anche un po di adattamento alla luce proviamo a tornare un po indietro ecco qui e chiudiamo come sempre su qualcosa di più ravvicinato per vedere come se la cava con i soggetti più ravvicinati